Il 9, il 10 e l'11 ci saranno delle avanzatissime tecnologie in Piazza Libertà e quindi credo che sia una grandissima opportunità per le tante donne che vogliono prevenire ed effettuare uno screening gratuito. L'assessore Claudia Mazzetti caldeggia così la partecipazione della popolazione femminile alla tre giorni di prevenzione che in Piazza Libertà a Gallarate mette la senologia al centro. Dopo questo periodo c'è bisogno di avvicinarsi ai cittadini e ricreare con loro questa fiducia che in qualche modo si è persa durante il periodo Covid. Medici per professione ma anche come volontari in campo per senologia al centro? Assolutamente perché all'interno della breast unit, quindi dell'unità di senologia operano dei chirurghi, in particolare sono due chirurghe, la dottoressa Monetti e la dottoressa Giavarini che presteranno la loro opera in piazza, sabato e domenica e naturalmente al di fuori dell'orario di lavoro, quindi è una dimostrazione dell'affezione verso la popolazione proprio allo scopo di cercare di fare delle visite e riconoscere dei tumori magari in fase precoce. Ricordiamoci che se arriviamo prima abbiamo più del 90%, parlo del tumore al seno in questo caso, di guarigione.